Cari cittadini, buonasera. È bene fare il punto della situazione per quanto concerne l'aspetto epidemiologico nel nostro paese. Ad oggi noi registriamo 11 nostri cittadini positivi, sicuramente un dato forte, un dato importante, anche se analizzando gli 11 positivi ci sono due grossi focolari, due famiglie di albanesi composti da tre persone i cui padri sono fratelli, quindi sei cittadini albanesi di ritorno dall'Albania. Poi c'è un focolaio tra i senegalesi, abbiamo due senegalesi risultati positivi in via Grammci e poi ci sono i tre, due giovani di ritorno dalla Sardegna e il positivo 1, un ultracinquantenne che sicuramente ha importato il virus anche per l'attività che svolge, essendo se non è un rappresentante di commercio. Bisogna dire che tutti e 11 sono non ospedalizzati, non hanno febbre, sono tutti asintomatici. La situazione però va a seguire, lo stiamo facendo di ora in ora, con l'ausilio dell'Asl, che ringrazio per il grosso lavoro che stanno svolgendo a Passamarka Rancinista. Abbiamo predisposto, come ho detto nel precedente video, tamponi per 10 senegalesi in via Grammci, non abbiamo ancora i risultati. Vi rannuncio che qualora ci dovessero essere ulteriori positivi in forma sempre maggiore, adotteremo ulteriori provvedimenti drastici, quale la chiusura di tutte le piazze e piazzette dell'area gineca di tutti i luoghi dove ci può essere un assembramento. Perché a questo punto bisognerà intervenire in maniera drastica per cercare di ridurre al minimo i contatti. Devo dire che l'aumento non riguarda solo San Marchemangelista, ma in Campania oggi registriamo 260 positivi, quindi un dato sicuramente forte, un dato in crescita anche nella nostra regione, nella nostra provincia e un po' in tutta Italia. Ripeto, sono quasi tutti anche nella nostra regione asintomatici, fortunatamente le terapie intensive sono voti un po' dovunque, ma questo aspetto non deve assolutamente rasserenarci. Bisogna assolutamente fermare il flusso epidemiologico, bisogna adottare tutte quelle misure che pongano dei fregni alla propagazione del virus. È chiaro, in primis bisogna rispettare due semplici disposizioni. La prima è quella di usare la mascherina sempre, appena si esce dalla propria abitazione e la seconda è di mantenere le distanze, io dico almeno un metro e mezzo, soprattutto nei luoghi di assembramento, piazze, piazzette, aria ginica, circoli, bar, tutti i luoghi dove c'è un assembramento. Quindi io mi rivolgo sempre al senso civico di tutti noi, di tutti i cittadini. Guardate, questa è una battaglia che riguarda tutti, non riguarda l'amministrazione, l'aslo, il comando di legge urbano, riguarda tutti i cittadini, perché noi siamo gli unici, tutti noi, che possiamo porre il freno vero alla propagazione del virus. Consentetemi però un ringraziamento particolare all'aslo di Marcianisi e al comando dei regidi urbani che di San Marco stanno facendo un grosso lavoro anche di controllo, pur essendo il numero sicuramente esibito. Qualora ci dovessero essere ulteriori variazioni, sia in positivo che in negativo, li comunicherò tempestivamente. Buonasera.